Musica Ho appena firmato il nuovo DPCM che prologa, lo avevamo già anticipato tramite il Ministro Speranza, che prologa l'attuale regime delle misure, così come sono state disposte, sino al 13 aprile. Purtroppo, lo dico particolarmente dispiaciuto, personalmente dispiaciuto, saremo purtroppo ad affrontare anche questi giorni di festività con questo regime restrittivo. Nel momento in cui i dati dovessero consolidarsi, inizieremo già a programmare un allentamento delle misure. Non vi posso dire però il 14 aprile, non siamo nella condizione. La fase 2 è quella di convivenza col virus, di adottare delle misure che pian piano portano all'allentamento, per poi entrare nella fase 3, che è quella dell'uscita dall'emergenza. Sono stato molto chiaro con i miei leader, con gli omologhi europei. Ho detto il MES, lo riconsidero e sono fermamente convinto che sia uno strumento assolutamente inadeguato per far fronte a questa emergenza. Nella lettera congiunta, con altri capi di Stato e di Governo, abbiamo chiesto di attivare subito tutti gli strumenti comuni di bilancio. Uno strumento comune di debito emesso a livello europeo per raccogliere risorse sui mercati alle stesse condizioni e sostenere tutti i paesi europei nella loro azione di contrasto al coronavirus e alle sue conseguenze economiche. Rispetto a ieri le persone guarite di MES sono 1118 in più. Si avvicina la Pasqua, andiamo a fare la Pasquetta? Assolutamente no. Dobbiamo rimanere a casa. Perché segnalare che il sito dell'Inps è in tilt, che ci sono milioni di lavoratori nell'incertezza, non significa alimentare le tensioni, significa segnalare un problema che c'è e aiutare a risolverlo. Bentornati a Coffee Break, buongiorno. Allora, noi sappiamo, la metto così, tre cose. Sappiamo, come tutti in fondo conoscevamo, che fino a dopo Pasqua, fino al 13, giorno di Pasquetta, l'Italia resta chiusa. Bisogna continuare ad osservare il distanziamento fisico, le misure di contenimento. Sappiamo che il governo è a lavoro sul decreto di aprile, un decreto che serve subito per dare subito liquidità, soprattutto alle imprese e alle famiglie. Quindi ci saranno nuovi sostegni economici. Sappiamo che c'è una trattativa in Europa. Oggi il termometro, mettiamola così, segna bel tempo. Si stanno praticamente trovando, approntando gli strumenti che devono essere diversi per sostenere le economie di tutti i paesi dell'Eurozona, tutti, Italia in primis, colpiti dall'emergenza e dal contagio del Covid-19. Sappiamo però un'altra cosa. Lo diceva Salvini nelle sue parole finali della copertina di Francesco Bardaro, che ieri il sito dell'Inps è letteralmente andato in tilt. Era in concomitanza, questo è successo in concomitanza, con la presentazione delle domande per il bonus da 600 euro, che spetta soprattutto ad autonomi, partite IVA, ma anche ad altre categorie. Il Premier Conte e anche il Presidente dell'Inps tridico hanno fatto sapere c'è stato un attacco di hacker. Insomma, quello che vogliamo dire. Non si poteva prevedere un afflusso così massiccio e mettere in campo, prima che questo succedesse, cioè che ci fosse il legittimo assalto, mettere in campo prima misure per evitare quello che è successo. Perché anche questo contribuisce a dare fiducia, a dare speranza, a dare contributi concreti, in questo caso economici, ai tanti lavoratori italiani e alle tante famiglie italiane. Lo diciamo non per motivi di polemica, ma perché ci aspettiamo questo, da chi amministra a tutti i livelli il Paese. Allora, do il bentornato alla sottosegretaria, al Ministero dello Sviluppo Economico Alessandra Todde, Movimento 5 Stelle, bentornata sottosegretario. Buongiorno, buongiorno dottor Pancani, grazie a telespeditatori per ospitarmi, grazie. Grazie a lei, do il bentornato al professor Pierluigi Lopalco, epidemiologo a capo della Task Force anti-coronavirus della regione Puglia. Bentornato, professor Lopalco. Buongiorno, buongiorno a tutti. Saluto collegato con noi credo da Treviso, il sindaco di Treviso, siamo in Veneto della Lega, Mario Conte. Sindaco, buongiorno. Buongiorno dottor Pancani e buongiorno a tutti. Buongiorno a lei, grazie di essere con noi. Noi so che anche i sindaci sono assolutamente in prima linea per questa emergenza. Allora, io vorrei però, se mi permettete, cominciare subito col professor Lopalco, che peraltro più tardi è impegnato anche lui, e quindi vogliamo subito coinvolgerlo, partendo da, intanto, la prima domanda. Dal suo osservatorio, professor Lopalco, a che punto siamo? Parliamo di picchi, parliamo di plateau, insomma, facciamo un po' di chiarezza. A che punto è la curva dei contagi in Italia? Allora, bisogna sempre sottolineare che i dati che vengono forniti alla protezione civile fino ad oggi sono stati principalmente trainati dall'epidemia lombarda. Parlo di epidemia lombarda perché in Italia non abbiamo un'unica epidemia, ma abbiamo tante epidemie che sono partite da una provincia, si sono espanse da una regione, poi sono in qualche maniera esondate e coinvolgendo altre regioni, quindi sono tutte un po' disallineate. Quindi quello che osserviamo oggi è principalmente un calo dei casi che è molto evidente nelle regioni più colpite, quindi quelle che hanno fornito il numero più alto dei casi. Il fatto che ci siano, appunto, delle epidemie così disallineate ci deve necessariamente imporre un'estrema cautela. Perché? Perché se noi possiamo ipotizzare che in Lombardia ci sia una quota consistente di soggetti che hanno effettivamente incontrato il virus e quindi hanno sviluppato degli anticorpi, e non parlo soltanto dei casi segnalati, è probabile che ci sia una platea di cittadini anche molto più larga che abbia inconsapevolmente incontrato il virus e quindi è in qualche maniera immunizzata. Questo fenomeno nel resto d'Italia è molto marginale, quindi nel resto d'Italia la quota di popolazione immunizzata è decisamente bassa. Cosa voglio dire dunque? Che noi abbiamo ancora un sacco di benzina in giro per l'Italia che può dar fuoco a nuovi focolai. Io vi dico per esempio la situazione pugliese. In Puglia noi non abbiamo avuto l'esplosione dei casi, questo è stato grazie alle misure di distanziamento sociale che ci hanno anche permesso di andare a ricercare uno ad uno tutti i vari focolai e spegnerli prima che gli vampassero. Questa azione è un'azione costante e nonostante questo noi ormai sono diversi giorni e già dal 18 marzo che costantemente ogni giorno abbiamo fra i 100 e i 120 casi. È una situazione che ci permette di gestire bene dal punto di vista sanitario. Abbiamo pianificato il numero di posti eletto in maniera abbastanza larga per gestire bene questi casi ma continua ad essere un numero consistente e che non dà nessun cenno di diminuire. Quindi se noi lasciassimo un pochino le briglie sciolte noi potremmo in Puglia come penso in tantissime altre regioni dell'Italia centro-meridionale avere dei focolai delle dimensioni della Lombardia. Il suo discorso diciamo è molto chiaro quindi sposa in parte quello che ha detto l'altro giorno il capo della protezione civile Borrelli dicendo attenzione il sud è ancora a rischio questo ci sta dicendo? Assolutamente sì. Ecco un'altra domanda che io le voglio fare che vuol dire entrare in quella fase fase 2 convivere con il virus? Cioè che cosa vuol dire? Lei prima lo accennava, no? Bisogna vedere poi quanti italiani magari asintomatici hanno avuto il coronavirus e non lo sanno. Cioè la mia domanda è come la definisco così ci vuole una patente di immunità e questa patente si può avere attraverso i test sierologici? Cioè come funziona, professore Lopalco? Questa è uno degli elementi di quella strategia più complessa che possiamo tradurre nel convivere con il virus cioè è chiaro che una volta passata questa prima ondata le pandemie avvengono per ondate possono esserci due o anche più di due ondate questa è la prima ondata della pandemia che ancora non si è risolta una volta risolta questa prima ondata è ovvio che le attività sia economiche che sociali devono ripartire ma devono ripartire in sicurezza per farle ripartire in sicurezza sono necessari due aspetti uno è appunto mettere in sicurezza chi rientra per esempio nel mondo del lavoro quindi i lavoratori devono essere in qualche maniera protetti le strategie per proteggerli sono tante a partire dai dispositivi di protezione individuale alla riorganizzazione del lavoro all'evitare grossi assembramenti eccetera l'altra strategia è sul territorio per individuare molto precocemente i casi i nuovi casi per evitare che si accendano delle catene di contagio quindi quando siamo sicuri che possiamo riaprire la produttività in sicurezza e garantire alla popolazione che se dovesse verificarsi anche un unico caso noi riusciamo ad individuarlo quello significherà ripartire in sicurezza mi spieghi una cosa il test sierologico mi permetterebbe quindi di individualmente di essere tranquillo e di tranquillizzare chi mi sta intorno? probabilmente sì probabilmente sì ma che vuol dire che io ho sviluppato gli anticorpi al coronavirus? se il test sierologico che viene usato è un test affidabile cioè che non mi dà dei falsi positivi magari scatta positivo perché io ho avuto un raffreddore da un altro coronavirus e mi dà la positività questo è possibile si chiama cross reazione quindi se escludiamo questo margine di errore è come dice lei se io ho gli anticorpi le IgG contro il SARS-CoV-2 io sicuramente per diversi mesi sono immunizzato contro questo virus e mi dica scusi perché questa è una curiosità magari è una domanda molto banale ma se io ho gli anticorpi vuol dire che l'ho preso? vuol dire che ho incontrato il virus ho fatto l'infezione e se non ho avuto sintomi ho fatto un'infezione asintomatica sono stato un portatore del virus asintomatico ma se vivo in famiglia e anche i miei familiari non si sono ammalati sono anche loro quindi nella mia stessa condizione questo mi sta dicendo? potrebbe essere ma potrebbe anche non essere perché il portatore asintomatico sviluppa l'infezione per pochi giorni e potrebbe anche svilupparla con una bassa carica virale e quindi non essere particolarmente contagioso grazie è stato chiarissimo perché questo è uno snodo secondo me molto importante soprattutto come sottolineavamo e sottolineava lei per la ripartenza allora andiamo in pubblicità è tardissimo e poi coinvolgiamo gli altri nostri ospiti e ovviamente abbiamo diverse altre domande da fare al professore anche al professor Lopalco tra poco Chiaravalle Centrale è uno dei 14 comuni calabresi definiti zone rosse a causa dell'alto numero di contagi per coronavirus ci è consentito solo un rapido passaggio per le strade desolate fino ad arrivare al focolaio dell'epidemia la residenza per anziani Domus Aurea qui in sole 24 ore sono decedute 7 persone e ci sono una settantina di contagiati tra ospiti e personale il titolare della struttura si è autodenunciato la situazione è drammatica abbiamo 47 ospiti positivi all'interno della struttura positiva al coronavirus e abbiamo difficoltà di personale perché parte del personale si è ammalato chi è rimasto al lavoro fa turni massacranti anche di 24 ore per tentare di assistere gli anziani 88, 90 anni, 92 e questa è la età media dei nostri ospiti ricoverati sono fragili fragilissimi e la fragilità in questo momento si acuisce ancora di più perché sono 5-6 giorni che è stato riscontrato questa possibilità ancora a Covid-19 e ancora di ospiti ospedalizzati ce ne stanno ben poco Monta la polemica perché la Regione Calabria non sa dove ricoverare i pazienti bisognerebbe avere dei concorsi bisognerebbe avere delle separazioni tra gli ammalati di Covid e ammalati che non sono Covid sarebbe opportuno che ci fossero questi ospedali dedicati soltanto alla cura però noi parliamo ma non li realizziamo e finora non è stato chiarito neanche come si sia potuto diffondere il contagio in una struttura che doveva essere protetta probabilmente si è diffuso perché ce lo siamo importato dal mondo d'Italia qualche nostra operatrice ha avuto qualche rapporto con qualche Covid positivo e l'ha trasmesso appunto la struttura in attesa di decisioni si naviga a vista fin quando non li ospedalizziamo tentiamo di effettuare qualche terapia a domicilio sarà sperimentale ma o meno abbiamo fatto qualcosa Allora le strutture per la terza età meriterebbero e meritano un discorso a parte adesso poi lo chiediamo al professor Lopalco voglio fare però un'incursione subito a Treviso Treviso città d'acque che bella città sindaco allora intanto le voglio chiedere una cosa intanto in una battuta qual è la situazione lì a Treviso visto che anche il Veneto è una delle regioni del nord piagata dal coronavirus Sì intanto grazie per l'opportunità grazie anche per i complimenti alla città allora la situazione a Treviso è in leggero se così si può definire miglioramento nel senso che l'aumento dei casi è controllato però c'è sempre un leggero aumento quindi noi siamo convinti che ci stiamo avvicinando al picco ma di questo non ne siamo convinti sono perfettamente d'accordo con quello che diceva il dottor Lopaico che questa pandemia ha una caratteristica che si sta espandendo a macchia di leopardo e quindi è difficile prevedere dove si svilupperà in che forma e in che quantità è per questo che temiamo che anche se Treviso dovesse in questo momento andare un po' meglio e cominciare a vedere l'uscita dalla luce in fondo al tunnel in realtà dovremmo rimanere comunque tutti chiusi in casa fino a quando tutto il paese non uscirà da questo che è un vero e proprio incubo comunque i numeri della regione Veneto purtroppo registrano 489 vittime ieri sera sono 1696 le persone ricoverate nei reparti di malattie infettive scusi della provincia di Treviso mentre del Veneto sono 9748 e 123 in terapia intensiva 20.000 sono le persone in isolamento domestico quindi numeri importanti a fronte però di una scelta mirata e voluta con grande determinazione del governatore Luca Zaia che ad oggi ha fatto più di 100.000 tamponi noi sappiamo sappiamo che questa diciamo è la politica della regione Veneto peraltro voi avete un altro virologo che spesso è nostro ospite che diciamo guida la task force Veneta che è il professor Crisanti che appunto ci ha spiegato bene anche nei giorni passati qual è la strategia del Veneto però le voglio fare una domanda più politica e poi vado dal sottosegretario Todde oggi c'è una brutta secondo me polemica tra alcuni sindaci lombardi delle città peraltro più colpite Bergamo Brescia Cremona nei confronti del governatore Fontana polemica a proposito di che cosa di mascherine tamponi di ritardi sulle misure adottate dalla Lombardia sono tutti sindaci di centro-sinistra nel suo caso è diverso lei per esempio ministra Treviso è un sindaco di centro-destra e la regione è guidata da un governatore della Lega di centro-destra allora quello che le chiedo intanto in maniera molto sincera dal punto di vista del rifornimento mascherine tamponi tutte queste cose qual è la situazione ovviamente a Treviso ma in Veneto ma guardi io credo che in questo momento le polemiche non siano di interesse dei cittadini oggi dobbiamo concentrarci su azioni concrete per uscire da questa crisi e credo che l'esempio del Veneto possa essere un esempio da esportare in tutta Italia per questo che a volte chiediamo con determinazione di essere ascoltati vi faccio l'esempio proprio delle mascherine quando in Italia e nel mondo non erano più reperibili mascherine perché ogni paese aveva deciso di tenersele in Veneto abbiamo deciso di realizzarcele e ad oggi il governatore Zaia grazie tra l'altro alla disponibilità di un imprenditore grafica Veneta di Padovano ha messo a disposizione per i 4 milioni 905 mila cittadini veneti oltre 6 milioni di mascherine per la precisione 6 milioni 231 milioni quindi 6 milioni 231 mila quindi un numero assolutamente abbondante di mascherine segno evidente che se le istituzioni non riescono a darti le dotazioni necessarie per affrontare la pandemia bisogna comunque attrezzarsi e credo che Veneto e Lombardia anche con la sistemazione degli ospedali realizzati grazie all'impegno degli alpini della protezione civile nel caso di Milano anche degli ultra dell'Atalanta Calcio ma qui a Treviso sono stati sistemati altri due ospedali e tra l'altro in tempi molto più veloci rispetto ai cinesi perché mi ricordo che qualche giorno fa guardavamo tutti stupiti la velocità della Cina nel realizzare un ospedale provvisorio credo che invece l'Italia gli italiani gli alpini i volontari la protezione civile abbiano dato un esempio di come in caso di necessità bisogna rimboccarsi le maniche questo richiamando un po' anche il direttore della casa di riposo della Calabria dove attende che la regione prendi delle iniziative noi non attendiamo noi dobbiamo mettere in sicurezza i nostri cittadini e lo facciamo indipendentemente dalle risposte che arrivano dallo Stato perché la nostra priorità è la salute dei cittadini quindi se lo Stato ci aiuta bene altrimenti ci arrangiamo altrimenti facciamo da soli dice lei allora sottosegretario Todde intanto mi dispiace oggi non riesco a fare vedere un servizio che era un servizio che abbiamo realizzato sulla situazione nella sua Sardegna dal punto di vista dell'emergenza e di come ci si sta attrezzando io volevo però intanto farle subito una prima battuta poi torno dal professor Lopalco la prima battuta è questa il governo poi in questo momento appunto le polemiche sono a zero è al lavoro insomma costantemente pancia a terra per questo nuovo decreto c'è stato un primo decreto da 25 miliardi il cura Italia però mi dica con diciamo totale sincerità e schiettezza quando poi un cittadino assiste a quello che è successo ieri sul sito dell'Inps cosa deve pensare cioè noi possiamo mettere in campo tutte le risorse che servirebbero se però il sito non funziona la burocrazia ostacola e ci sono ancora mille lacci e lacciuoli come facciamo? allora guardi le rispondo da ingegnere informatico e non da sottosegretario il fatto che ci sia stato un attacco hacker ovviamente ha indebolito l'infrastruttura del sito Inps voi sapete chiaramente che attacchi di questo genere sono avvengono anche nelle maggiori società tecnologiche che dovrebbero essere quelle più pronte a sostenere questi attacchi quello che è importante è la reazione la reazione dell'Inps del suo presidente dei suoi dirigenti del ministero del lavoro e del governo quello che posso dire ad oggi è che intanto 500.000 domande sono state comunque accolte e nessuna di loro è stata persa sono stati creati dei percorsi differenti per i consulenti e per i cittadini e la cosa più importante è che il presidente Tridico dopo aver annunciato l'attacco hacker ha detto bene da domani dalle 8 alle 16 i consulenti i CAF dalle 16 poi possono accedere i cittadini ma non lo si poteva pensare prima sapendo che ci sarebbe stato questa mole enorme di domande ma perché sempre dopo mi scusi io non voglio fare polemica ma trovo che questa sia una situazione hacker a parte c'entreranno pure che è insostenibile guardi io le ripeto sono convinta che senza questo attacco probabilmente il sito avrebbe retto diversamente lo dimostra il fatto che il sito in piedi oggi sta comunque rispondendo ed ha già accolto oltre 500 mila domande quindi il punto vero è c'è stato un problema lo Stato ha reagito l'Inps lo sta risolvendo l'ha risolto ha dichiarato che nessuna delle domande presentate verrà persa che i dati che sono stati comunque condivisi non sono dati come dire sensibili e non sono persi soprattutto quindi non ci sono danni nei confronti dei cittadini e la cosa più importante è che il 15 di aprile i soldi saranno disponibili ai cittadini che è la risposta credo che i cittadini vogliano ascoltare non c'è dubbio questo è molto importante quindi sicuramente nessuno vuole negare le difficoltà ci sono però allo stesso tempo noi stiamo qua stiamo rispondendo e stiamo lavorando ogni secondo ogni minuto ogni ora per dare delle risposte ai nostri cittadini sì e anche perché la situazione noi l'abbiamo riveduta in questi giorni diciamo parallelamente all'emergenza sanitaria bisogna affrontare l'emergenza economica e non si può aspettare che la famosa curva dei contagi diciamo discenda fino al punto che tutti ci auguriamo ovviamente ma questo diciamo so che c'è un grande lavoro ovviamente su questo e sul prossimo decreto allora facciamo così perché poi il professor Lopalco deve andare via voglio fare un paio di domande rapide ancora allo palco intanto partendo da quello che abbiamo visto in Calabria ma professor Lopalco l'idea la sensazione la percezione magari sbaglio è che tutti questi focolai sparsi per l'Italia di residenze di strutture per anziani siano un po' abbandonate a se stesse con un sacco di contagiati con già molte vittime col personale sanitario positivo al coronavirus questo è un grande problema allora guardi noi abbiamo imparato a capire come funziona questo virus questo virus contagia un po' tutti poi quello che noi vediamo sono i casi gravi di malattia ecco perché noi abbiamo una forte evidenza delle residenze per gli anziani perché lì è un concentrato di soggetti fragili quindi quando entra il virus ce ne accorgiamo subito ora che quelle fossero delle situazioni diciamo a rischio lo sapevamo abbiamo già avuto delle abisaglie già dal vendito alla Lombardia noi in Puglia abbiamo fatto abbiamo messo in piedi delle procedure per cercare di mettere in sicurezza queste strutture ma nonostante ciò anche noi stiamo avendo dei focolai in alcune in alcune residenze sono tantissime pensate che solo in Puglia ce ne sono oltre 170 e hanno una caratteristica che sono praticamente sono residenze in cui sono tutti anziani non solo ma non sono residenze chiuse perché in alcune di queste per esempio alcuni ospiti durante il fine settimana ritornano in famiglia e poi rientrano in struttura e poi sono tanti gli inservienti non sono soltanto gli assistenti sanitari ma sono gli inservienti delle pulizie della cucina eccetera quindi sono oggettivamente molto 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 complicate da essere messi in sicurezza ecco le ultime due domande sono queste la prima domanda che le faccio sulla scena del discorso che facevamo prima me l'ha inviata un telespettatore ma se io sono un portatore asintomatico quanto dura il periodo in cui sono pericoloso per gli altri contagioso non abbiamo moltissimi dati su questo aspetto e lo potete anche immaginare se io sono asintomatico non me l'accolgo e quindi non faccio un test dai test che sono stati fatti su soggetti asintomatici e sugli unici dati che abbiamo disponibili non sono tanti sappiamo che in media la durata della contagiosità è molto più breve che nei casi sintomatici si pensa siano 4-5 giorni e poi le dicevo l'altro aspetto dobbiamo anche vedere qual è la carica infettante si pensa che ovviamente se io ho pochi sintomi non tossisco e quindi ho meno opportunità di contagiare chi mi sta intorno chiarissimo senta l'ultima è una domanda politica perché oggi in un'intervista alla stampa il vice segretario del partito democratico Orlando rilancia una discussione che è lì diciamo in sottofondo ma che però tornerà credo in primissimo piano superata l'emergenza cioè la sanità probabilmente deve tornare allo stato centralizzata immagino quanto il sindaco di Treviso abbia l'allergia per questo discorso lei che cosa pensa? ma io io penso che il mio mestiere è quello di fare l'epidemiologo quindi lascio ad altri determinate considerazioni se non le dispiace le dico molto bravo professionalmente un principe di diplomazia la ringrazio sempre per i suoi contributi così importanti che ci aiutano a capire ci vedremo nei prossimi giorni buon lavoro ovviamente visto che è tanto quello che dovete fare è fronteggiare allora andiamo subito in pubblicità intanto saluto che si è appena collegato con noi Lando Maria Sileoni che è il segretario generale della federazione autonoma dei bancari italiani la Fabi e perché vogliamo dare anche buongiorno bentornato Sileoni molte informazioni speriamo utili di servizio perché il mondo bancario gioca una partita importante in questa fase così difficile per il nostro paese ci vediamo tra pochissimo e questa è una giornata di polemiche perché detta della polemica tra alcuni sindaci di centro-sinistra della Lombardia nei confronti della regione guidata dal governatore Fontana della Lega c'è un'altra polemica perché oggi c'è stata un'intervista al Premier Conte mi pare sul Fatto Quotidiano il Premier Conte ha detto diverse cose ovviamente e ha parlato anche delle zone rosse dicendo se la Lombardia se Fontana avesse voluto aprire mettere una zona rossa nel Bergamasco poteva farlo e Fontana poco fa ha risposto alle parole di Conte ha detto che questo è un tentativo di scaricare noi a Conte abbiamo chiesto la zona rossa è inutile che cerchi di scaricare su di noi la responsabilità è insomma è una brutta polemica Fontana peraltro ha anche detto un'altra cosa dal governo stiamo ancora aspettando risorse materiali è passato un mese e mezzo dall'inizio dell'emergenza e da Roma abbiamo ricevuto soltanto briciole quindi questa si vede che sarà una giornata di polemica voi vedremo sapete in mattinata poi c'è diciamo la conferenza stampa i dati dell'assessore Gallera c'è anche l'intervento di Fontana in mattinata vedremo poi insomma vi rimandiamo anche al nostro telegiornale delle 13.30 allora vado torno dal sottosegretario Todde no? perché voglio chiedere a Todde faccio la stessa domanda che ha fatto Lopalco e lei non solo da sottosegretario ma anche da importante esponente politico forse può essere meno diplomatica insomma Orlando dice bisogna ripensare a come è organizzata la sanità in questo paese il capo politico del vostro movimento Crimi credo che abbia detto è una proposta che noi già da diverso tempo abbiamo in animo come Movimento 5 Stelle la sua riflessione qual è alla luce di quello che è successo anche allora la mia riflessione è che le cose funzionano quando sono in equilibrio quindi da una parte non bisogna demonizzare la sanità privata ma allo stesso tempo bisogna capire in maniera forte e chiara che è necessario irrobustire la nostra sanità pubblica quindi sicuramente gli investimenti che sono già stati fatti nel primo decreto di marzo e che sicuramente proseguiranno con i decreti per rafforzare la sanità pubblica sono proprio volti al fatto che noi abbiamo come asse centrante il fatto di garantire la salute dei nostri cittadini e questo deve essere fatto con ogni mezzo a disposizione quindi rafforzando la sanità pubblica e ovviamente facendo leva sulla sanità privata dove questa c'è esiste e funziona però il fatto che la sanità pubblica sia un asse portante dello suo paese questo penso che sia indiscutibile che vada rafforzata ma lei la ricentralizzerebbe proprio come anche gestione visto che oggi è in mano alle regioni guardi sicuramente il fatto che una delle cose che è emersa anche nella gestione di questa come dire di questa emergenza è che serve coordinamento e quindi serve ovviamente il fatto che si vada tutti nella stessa direzione che sia una direzione corretta quindi in questo senso secondo me una direzione centrale serve poi dove ci sono delle eccellenze nessuno le vuole soffocare nessuno vuole come dire fare in modo che queste eccellenze non emergano però è importante avere un coordinamento centrale sì questo ne sono convinte lo penso ecco tanto grazie perché è importante che questo è un dibattito che diciamo non deve occupare energie in questo momento ma a cui poi penseremo usciti da questa emergenza allora voglio chiedere subito all'anno Maria Sileoni al segretario generale della Fabi qualche informazione di questi tempi è più che utile relativamente appunto alle banche al sistema bancario intanto parto proprio da una cosa banale Sileoni oggi un cittadino cosa può fare in banca come funziona come stanno funzionando le banche le banche funzionano in maniera molto attiva essendo un servizio pubblico essenziale definiti da una legge del 1990 mi permetta poi le risponde meramente mi permetta brevemente di fare accenno a degli episodi che si stanno verificando allora recentemente alcune trasmissioni hanno giustamente evidenziato la disperazione di una signora di un signore di Bari perché ha trovato la propria banca chiusa e la signora ha preso a sassate la banca ecco noi dobbiamo stare attenti a far passare questi messaggi perché all'interno delle banche ci sono 300.000 lavoratori che lavorano che rischiano la vita che fino a tre giorni fa non avevano neanche le mascherine le faccio vedere questa foto non so se si vede è la vetrina è la vetrina di un'agenzia di collegchio di una banca presa a sassate questa mattina mi è stata inviata dieci minuti fa allora la gente deve sapere uno che le persone che lavorano all'interno le banche non c'entrano niente con la gestione delle banche due che sono al servizio del pubblico della clientela in questi giorni stiamo pagando le pensioni e mi creda ci sono 36.000 pensionati che riscuotono la pensione agli sportelli bancari su circa 3 milioni che ne hanno accesso e l'aspetto principale però io voglio innanzitutto ringraziare tutti i prefetti che si stanno adoperando per la sicurezza anche di che lavorano in banca io sono nella zona di Viterbo e mi sto rendendo conto in prima persona che per esempio il prefetto di Viterbo il dottor Giovanni Bruno rispetto alle sicurezza della clientela e di chi lavora in banca sta svolgendo un lavoro incredibilmente positivo le rispondo che cosa si può fare oggi senza entrare in banca ottenendo gli stessi risultati allora chi può chi vuole può può utilizzare internet per fare cosa per fare gestione dei propri risparmi investimenti per consultare il proprio conto corrente per chiedere l'elenco dei movimenti del proprio conto corrente per trasferimento di denaro per pagamento di tasse e utenze per ricaricare la carta di credito prepagata e anche per ricaricare ad esempio il cellulare che cosa si può fare con il telefono dato che oggi in banca un accordo che abbiamo fatto noi come organizzazioni sindacali del settore con l'ABI si può accedere solo previo appuntamento proprio per mettere a riparo sia la salute della clientela sia di chi lavora in banca allora si può chiedere con il telefono innanzitutto un appuntamento poi consulenza ed assistenza si possono eseguire pagamenti tramite poi l'utilizzo di mail si possono trasferire somme di denaro insomma oggi si può tranquillamente operare con la banca senza per forza entrare in banca un'altra informazione che ritengo fondamentale non c'è molta chiarezza oggi fra quanto ha disposto il governo e quanto lo stesso governo ha emanato alle direzioni delle banche sono sicuro che nel giro di 24 ore tutte le vicende saranno estremamente più chiare è passato il concetto le faccio un esempio che per la sospensione dei mutui prima casa sia automatica è un concetto sbagliato e chi lo dice non conosce come realmente stanno le cose allora per sospendere la preparatura di mutuo prima casa è necessario telefonare mandare una mail e in alcuni casi alcune banche chiedono una sorta di autocertificazione una maniera estremamente segre è molto importante però le voglio fare una domanda proprio su questo ecco perché questo è un altro di quei casi molto all'italiana si dice le banche benissimo c'è la sospensione del mutuo per chi ovviamente ha un mutuo allora intanto queste sono voci che io raccolgo come tutti noi lei diceva bisogna fare intanto una domanda eccetera qualcuno mi ha detto attenzione che per ricalcolare diciamo il piano di ammortamento ci sono un sacco di pratiche anche da parte diciamo di chi lavora in banca quindi la cosa è ancora macchinosa non è così rapida intanto allora io penso allora vorrei essere ancora più chiaro secondo me nel giro di 24-48 ore dal punto di vista normativo e tra virgolette burocratico la questione per esempio della sospensione dei mutui sarà dal punto di vista proprio delle norme estremamente chiara e facilmente accessibile è necessaria indispensabile che lei dottor Pancani che ha un mutuo in banca se ce l'ha lei può tranquillamente fare una telefonata lei verrà chiesto una mail e il mutuo sarà automaticamente sospeso se è un mutuo prima casa se non è una casa comunque di lusso la sospensione del pagamento delle rate può arrivare fino a 18 mesi quindi è un semplice allungamento del piano di ammortamento dello stesso mutuo chiaro allora questo era molto importante perché poi una cosa sono i titoli che si fanno una cosa sono gli annunci una cosa poi è praticamente affrontare tutte queste cose mi fai ritornare solo brevemente sull'altro aspetto ecco noi riceviamo segnalazioni di lavoratrici e lavoratori che vengono in questi ultimi giorni minacciati dalla clientela guardate che se continua questa storia pur essendo un servizio pubblico oggi noi alle 11 abbiamo un incontro in videoconferenza tutte le organizzazioni sindacali con l'ABI con la situazione delle banche italiane se continuano a minacciare come stanno minacciando e se continuano altri vandalici come quello recentemente di questa mattina di una banca a Collecchio guardate che noi siamo pronti a prendere provvedimenti anche abbastanza allora io vorrei sì no fa bene a sottolineare Sioni vorrei dire una cosa tutti questi episodi sono ovviamente da condannare no? poi può succedere che però magari nello scenario attuale in un momento di disperazione qualcuno come dire usi espressioni forti certo non tirare le pietre non rompere gli sportelli non abbandonarsi a episodi di violenza dico che magari qualche volta può succedere che qualche cittadino ma io ho anche ringraziato le forze dell'ordine i prefetti che soprattutto nelle zone rosse stanno facendo un lavoro le forze dell'ordine stanno facendo un altro lavoro colossale ha fatto bene a sottolinearlo e sono come i personale sanitario impegnate in primissima linea allora facciamo così devo sentire su quello che diceva anche Sileoni sia il sottosegretario Toddemo voglio sentire anche il sindaco di Treviso poi ci colleghiamo con Roberto Vacca matematico futurologo e con lui vediamo di capire qual è lo scenario a proposito di contagi di fine dei contagi ma anche di costo che è già altissimo di vittime che l'Italia sta pagando e probabilmente pagherà ancora per colpa di questo maledetto coronavirus adesso però vado da Paolo Sottocorona appuntamento molto atteso anche questo sul fronte del tempo buongiorno Paolo Sì buongiorno queste deboli piogge sulle isole maggiori è tutto ciò che riusciamo a mettere insieme nella giornata di oggi ovviamente abbiamo ben altro a cui pensare ma manca anche la pioggia manca anche l'acqua soprattutto al sud ma anche al nord queste piogge sono molto deboli quantità intorno al millimetro nelle 24 ore se no un po' di nuvole domani nella giornata di domani si mantiene questa situazione con debolissime piogge al sud questa volta potrebbero toccare la Calabria al nord come vedete c'è qualche nuvola sulle zone alpine prealpine ma precipitazioni niente e anche ampie zone di sereno e infine nella giornata di sabato abbiamo una situazione che ricalca esattamente questi giorni quindi tutto si va il tempo si va stabilizzando le piogge sono isolatissime deboli soltanto sulle zone del sud ecco localmente sulle zone alpine ma insomma veramente sono piccolissime incertezze questo consente un graduale lento aumento delle temperature la foto di oggi presa dalla finestra di casa ovviamente c'è la manda Cinzia siamo a Porto Santo Stefano all'Argentario questo è il porto nuovo e questo è la parte di lungomare che va verso il cosiddetto porto vecchio e ci sono i due i due gabbiani sul lampione e dice Cinzia anche loro si tengono a distanza noi ormai siamo un po' condizionati leggiamo tutto ovviamente anche gli animali quando sono a un metro di distanza rispettano la distanza così che noi dobbiamo dobbiamo rispettare non è così però insomma la prendiamo in questa maniera forse ci consoliamo un po' ma non credo nemmeno tanto allora torno dal sottosegretario Todde allora caro sottosegretario in un paese non me ne vorrà Sileoni che è bancocentrico le banche ovviamente hanno un'importanza fondamentale passeranno dalle banche per esempio passerà il pagamento per l'assegno dell'indenità di cassa integrazione ci spiegava adesso Sileoni tutte le altre cose che si fanno in banca e poi magari se ci riusciamo volevo tornare un attimo sulla sospensione del mutuo che è un aspetto molto importante per tanti italiani quello che le voglio chiedere è siccome rispetto ai provvedimenti del governo parlo quelli di natura economica fondamentalmente poi bisogna veicolarli appunto attraverso le banche attraverso l'Inps attraverso le regioni è tutto chiaro cioè state parlando continuamente gli interlocutori hanno capito lo dico nel senso che poi qualche italiano qualche imprenditore non si trovi domani ad andare in banca e dice no ma ci vuole una documentazione monumentale cioè si sta sburocratizzando sveltendo il più possibile guardi sì sul tema del per esempio del sostegno le aziende noi sappiamo che in questo momento le aziende hanno necessità assoluta di liquidità quindi insieme alle misure che stiamo prendendo ovviamente nei decreti legge stiamo anche lavorando quotidianamente con le associazioni bancarie con AVI con le banche proprio per essere certi che non si muoia di attuazione noi dobbiamo essere un paese che risponde di norme ma che fa le cose e quindi ovviamente un imprenditore deve poter andare in banca e avere un percorso chiaro anche perché non c'è tempo noi sappiamo che la reazione è adesso e quindi adesso bisogna fare le cose le dobbiamo fare noi come governo come norme come leggi ma anche tutte le categorie che sono coinvolte con la responsabilità quindi ovviamente anche gli impiegati di banca che in questo momento sono stressati perché devono chiaramente rispondere a una serie di pratiche a una serie di adempimenti che sono a loro carico devono ricordarsi che sono comunque ovviamente al servizio dei cittadini che in questo momento e delle imprese che in questo momento hanno bisogno di risposte quindi noi facciamo le leggi ma l'attuazione deve essere fatta da tutte le catene e faccio un altro piccolissimo esempio noi stiamo lavorando per esempio per le aziende perché le aziende possano tornare a lavorare in sicurezza uno dei problemi giganteschi è stato l'approvvigionamento da parte delle aziende c'è carenza per la struttura sanitaria per cui c'è un grosso problema anche per le aziende per riuscire a tornare in sicurezza noi abbiamo lavorato col commissario straordinario e con le protezioni civili regionali per fare in modo che le aziende possano avere dei canali certi sicuri per potersi approvvigionare anche questo è voglio dire cominciare ad avere le idee chiare e a chiarirle soprattutto a chi poi deve lavorare senta ma quando Salvini dice l'ha citata molte volte in questo periodo la Svizzera dice la Svizzera eroga il 10% del fatturato in contanti alle aziende in base soltanto ad un'autocertificazione è una cosa che è uno scenario che potrebbe essere verosimile per questo paese o no? Guardi noi quello che stiamo cercando di fare è di semplificare il più possibile l'utilizzo del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese abbiamo già portato la garanzia all'80% stiamo combattendo con le autorità europee per portarla al 100% perché il punto è che se è all'80% ovviamente un istruttore deve essere aperto in banche anche qua stiamo cercando di lavorare il più possibile perché questa istruttore sia il più semplificata il più semplificata possibile d'altro canto dobbiamo ovviamente avere la possibilità di copertura e qui ci rilasciamo anche un tema europeo che è quello che stiamo portando avanti in questi giorni che è un tema comunque importante io credo che in questo momento noi dobbiamo assolutamente farci sentire come paese dobbiamo portare avanti le nostre istanze far capire i nostri partner europei che non ci siamo soltanto quando si tratta di essere i terzi contributori in Europa ma anche quando abbiamo bisogno di essere di comunque di ricevere da loro questo è importante credo che il governo lo stia facendo in maniera forte in maniera chiara soprattutto con chi non è d'accordo al fatto che questa è una situazione straordinaria e bisogna di strumenti straordinari allora grazie do solo questa notizia prima dicevamo appunto del sito dell'Inps il ministro del lavoro Catalfo la ministra ha fatto sapere che dall'una di questa notte le domande pervenute erano già oltre mezzo milione 517 mila 529 che il sito al momento regge insomma dovevamo dare anche questa informazione allora do un ordine di interventi perché non abbiamo molto tempo devo fare un'altra domanda al sindaco di Treviso poi vado da Roberto Vacca e poi devo approfondire una questione sui mutui sospensioni dei mutui con Lando Maria Silioni allora sindaco Conte voi dal punto di vista della burocrazia anche a livello territoriale come state messi? No diciamo che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare di sicuro non è una caratteristica italiana quella della semplificazione e purtroppo neanche in questa emergenza si sta dimostrando molto semplice riuscire a cedere i fondi ma io vorrei approfittare della presenza del sottosegretario Todd perché faccio un esempio nell'erogazione secondo me anche buona dei 400 milioni ai comuni italiani per i bonus alimentari in realtà io chiedo e lo chiedo qui ufficialmente che venga tolto il vincolo dei buoni alimentari perché ripeto se in Sicilia e io ho massimo rispetto delle esigenze di qualsiasi comune da nord a sud da est a ovest ci sono delle esigenze particolari sulla base del quale nasce questo provvedimento non credo sia corretto estenderlo to cure a tutta l'Italia perché magari e qui chiedo la possibilità di autonomia di spesa e in Veneto o in Lombardia le esigenze oggi sono diverse quindi a me spendere nel Comune di Treviso 450 mila euro per buoni alimentari è sicuramente una cosa di sindaco è chiarissimo perché non abbiamo tempo sentiamo una risposta flash dal sottosegretario prego in questo momento bisogna assolutamente ascoltare i territori i comuni e le regioni quindi assolutamente mi prenderò carico di questa richiesta e vedrò cosa è possibile fare grazie ci abbiamo fatto da tramite Roberto Vacca buongiorno buongiorno allora noi con Roberto Vacca affrontiamo anche se non abbiamo moltissimo tempo ma una questione che è quella che ossessiona anche in termini ovviamente di prospettiva futura tutti gli italiani cioè ma la curva del contagio quando scenderà insomma in maniera consistente e quale sarà si fanno ovviamente molte previsioni non soltanto in Italia ma in tutto il mondo quale sarà l'altissimo prezzo che già stiamo pagando in termini di vittime che dovremo affrontare e il professor Vacca ci ha portato uno studio dei cartelli molto rapidi vi facciamo vedere è vero professor Vacca? La curva del contagio bisogna starci piuttosto attenti perché il numero dei contagi non è un numero molto affidabile dipende da quanti tamponi vengono fatti da quante persone volontariamente vanno a farsi esaminare e così via perciò io molto più modestamente guardo le statistiche che ogni giorno il ministero della salute dà sul numero dei decessi quanta gente muore quello è più sicuro e quello che sto vedendo che si verifichi esattamente quello che aveva previsto il fisico Vito Volterra quasi cent'anni fa e cioè che la curva dei malati e anche dei morti aspetti lo vediamo scusi professore per la mia regia e credo il cartello 2 cioè vediamo il cartello i morti in Italia per covid-19 dal 24 febbraio al 30 marzo ecco lo facciamo vedere prego come si vede inizia la curva a salire molto lentamente poi accelera sembra che diventi quasi esponenziale arrivata a metà frena e io stanotte ho fatto i conti anche con i dati di ieri sera e stiamo piegando e non cresce più a un certo momento come vedete questo dovrebbe succedere verso poco oltre la metà di aprile cioè aspetti vediamo se ho capito dopo la metà di aprile dovrebbe precipitare lei dice questa curva di contagio non precipitare lentamente spegnersi lentamente spegnersi cioè spette di crescere il numero dei morti non muore più nessuno e ci dovremmo fermare non sono calcoli molto precisi sono calcoli empirici ieri sera l'altro ieri dicevo 16.745 ieri sera il risultato che sarebbe la retta superiore era di 16.500 dovremmo fermarci appunto intorno a 16.000 17.000 morti allora mi scusi professore questo è importante perché stiamo parlando ovviamente questo è un numero ma stiamo parlando di persone c'è un numero immenso di vittime cioè lei dice che alla fine ci saranno 16.000 17.000 morti questo ci sta dicendo giustamente però cerchiamo di metterlo a fuoco con gli altri numeri importanti nel 1957 ci fu l'asiatica e i morti in Italia furono 30.000 nel 68 con l'influenza di Hong Kong furono 20.000 e nel 2009 con la SARS furono circa 12.000 rendiamoci conto che ogni anno in Italia muoiono 600.000 persone facciamo vedere questo cartello che è una media che ci ha mandato di morti per varie malattie varie patologie in Italia tra il 2015 e il 2017 e queste cifre sono cifre che ci spiegano meglio prego professor Vacca quello che lei stava dicendo purtroppo in Italia ancora da oggi succede che 13.000 circa 10.000 persone muoiono per malattie che non si conoscono mal definite per quelle infettive siamo più o meno sulla stessa cifra e poi come sappiamo bene il numero massimo di decessi dipende dal sistema circolatorio 220.000 e dai tumori 180.000 perciò sicuramente queste cifre sono notevolmente alte ma è già successo perciò dobbiamo tenerci forte e affronteremo anche questa difficoltà sì pensiamo solo a un numero certo parliamo di un paese molto più vasto come gli Stati Uniti avete sentito abbiamo tutti sentito che c'è una previsione terribile dove si potrebbero rischiare negli Stati Uniti 240.000 vittime questa diciamo è la cifra più alta ipotizzata quella l'ha tirato fuori Trump ma è molto vaga non lo so io mi riferisco a quello che è stato detto ovviamente e che è arrivato dagli Stati Uniti certo certamente allora ricordiamoci che al tempo dell'Asiatica nel 1957 gli americani ne morirono 116.000 sì e in tutto il mondo oltre un milione 200.000 perciò queste sono le cifre attualmente abbiamo preso povedimenti molto drastici per limitare gli spostamenti e limitare i contagi cosa che nei decenni passati non veniva fatto perciò già con le disposizioni prese stiamo salvando la vita probabilmente a parecchie migliaia di persone fa bene a sottolinearlo anche lei perché quella è la cosa più importante nonostante i sacrifici e tutto quello che questo comporta bisogna mantenere questa distanza fisica e restare il più possibile nelle proprie case rispettando le misure che sono state disposte non c'è dubbio questo è l'unico modo per non permettere il contagio prego si ripete anche molto spesso bisogna avere buona abitudine a lavarsi le mani non si ripete abbastanza che bisogna lavarsi le mani con l'acqua calda piuttosto calda perché a temperatura superiore ai silici 17 gradi questo virus viene distrutto eh sì ha fatto bene a ricordarlo ha fatto bene a ricordarlo questo è stato calcolato nel 2007 e recentemente gli scienziati cinesi hanno controllato che anche il coronavirus è soggetto a essere distrutto dalla temperatura alta perciò ricordiamoci lavarsi le mani con acqua calda dopodiché i disinfettanti i saponi e così via hanno effetto se no li involucro e protegge il coronavirus li protegge il virus anche dai detergenti assolutamente allora noi speriamo che la previsione grazie al diagramma di Volterra che ci ricordava il professor Vacca sia quello che poi succederà anche perché coinciderebbe più o meno quel picco intorno alla metà scavallata di poco la metà di aprile coinciderebbe appunto con la stretta prorogata dal governo appunto più o meno fino al 13 in quei giorni torno rapidamente da Lando Maria Silione chiedo un paio di risposte flash ripetiamo una cosa che è molto importante chi ha diritto alla sospensione del mutuo non tutti no allora per quanto riguarda le persone fisiche hanno diritto quei lavoratori che hanno subito una sospensione o una riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni oppure quei lavoratori che vanno in casa integrazione o che stanno o che utilizzano altri ammortizzatori sociali ma c'entra anche l'ISE bisogna presentare un ISE un reddito cioè una fascia di reddito interessata o no? sì eh e questo è importante cioè quindi non tutti possono accedere alla sospensione per quanto riguarda il discorso dei lavoratori autonomi o dei liberi professionisti ecco qui c'è un ci sono dei paletti cioè riservato a chi ha registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio del 2020 una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto all'ultimo trimestre del 2019 senta ho ricevuto una domanda da un telespettatore una telespettatrice non lo so che però parla di un caso preciso dice noi abitiamo in una casa in affitto ma siamo proprietari però di una casa dove non viviamo abbiamo diritto alla sospensione del mutuo? questo non glielo so dire è un particolare specifico e lo so però naturalmente poi tutti scrivono chiedono e quindi le giro la domanda sempre sempre in sintesi ecco prima il professor Vacca parlava giustamente no di dover far scendere la curva dei contagi sì un personaggio estremamente autorevole io vorrei prendere spunto da quello che ha detto il professor Vacca cioè dal fatto di lavarsi le mani per quanto riguarda la curva della burocrazia ecco faccio questo esempio la curva della burocrazia qui c'è gente che si sta lavando troppo spesso le mani la burocrazia è un elemento che sta purtroppo contaminando in maniera molto significativa e molto pesante il lavoro di tutti i giorni anche di chi sta dietro una banca perché se i lavoratori bancari ma le stesse banche avessero le normative chiare lei ha fatto un esempio prima quello è un esempio che merita una risposta ben precisa ecco se le normative fossero trasferite in maniera chiara alle banche tutto sarebbe molto più semplice hanno assolutamente da sottoscrivere questa ultima riflessione di Sileoni speriamo e speriamo che questa consapevolezza diciamo di giorno in giorno cresca di più anche in chi ci governa a tutti i livelli e dal governo centrale ai livelli territoriali e periferici buongiorno Mirta buongiorno Andrea allora oggi abbiamo moltissime cose da capire insieme Conte ci ha detto chiaramente che fino a Pasquetta saremo a casa ci ha anche fatto capire che dovremmo convivere con questo virus arriva da noi l'infettivologo Matteo Bassetti e con lui prevederemo a capire cosa vuol dire convivere col virus e fino a quando come cambieranno le nostre abitudini ci viene a trovare con Fredo Buccini Giacomo Grasselli per parlare delle terapie intensive restano un'emergenza o lì siamo messi meglio arriva Gian Paolo Sileri parleremo anche del disastro IMSS col vice ministro Sileri e poi Massimo Giletti Stefano Buffanni Gianluca Timpone e Giuseppe Chisolfi per parlare del grande tema banche mi arrivano migliaia di mail a Dillo Amirta che mi dicono che i mutui non vengono sospesi quello che c'è nella circolare non viene applicato arriva poi a trovarci Francesco Boccia anche con lui insomma il tema IMSS è un grandissimo tema capite bene che oggi è quello il problema vi aspetto grazie grazie allora dopo la pubblicità come sempre la reggaettina con Mirta Merlino noi ci vediamo domani alla stessa ora sulla 7 in questo filo continuo sull'emergenza coronavirus grazie e a domani a domani grazie